quando un teologo cattolico voi chiedete qual è il fondamento della nostra fede lui vi dirà due sono i fondamenti della nostra fede la bibbia tutta non solo i vangeli mi raccomando la bibbia e la tradizione concilio vaticano secondo fatto un piccolo passo avanti dicendo la bibbia nella tradizione perché perché in fondo il nuovo testamento non è altro che una parte della tradizione è diventato testo scritto e se tu vuoi capire un testo lo devi leggere nel suo contesto e il contesto del testo scritto del nuovo testamento è la tradizione divino apostolica che è incominciata con i testimoni oculari non per sentito dire questo è un dato molto importante dunque gli atti degli apostoli sono l'anello di congiunzione tra la chiesa divino apostolica e la chiesa successiva un secondo tema molto importante è il compimento della storia della salvezza esiste la storia degli uomini quella che viviamo tutti ma dentro a questa storia dio intesse la salvezza di ciascuno quindi quando noi possiamo leggere gli avvenimenti li possiamo leggere da due punti di vista da un punto di vista profano allora c'è chi dice la storia viene fatta dall'economia la storia viene fatta dalla forza del popolo la storia viene fatta dai personaggi importanti la storia viene fatta a seconda delle varie ideologie noi abbiamo il racconto profano della storia ma esiste anche un racconto teologico della storia quando gli scrittori apocalittici dicono guardate c'era il regno accadico il regno assiro è finito subentrato il regno babilonese finito anche quello pesiano finito anche quello macedone finito anche quello c'è il regno se leucida che ci perseguita nessun problema finirà anche questo noi no ma il regno si impero romano perseguita si finirà anche l'impero romano questa è una lettura teologica della storia e dentro la vita di ciascuno gli avvenimenti possono essere anche questi raccontati sotto il profilo profano ma anche sotto il profilo teologico che senso ha che tu abbia incontrato certe persone nella tua vita che senso ha che tu abbia avuto certe esperienze nella tua vita e allora uno comincia a dire corpo questo non è successo per caso c'è stata una providenza sotto e tu cominci a leggere la tua vita sotto il profilo teologico e questa lettura della tua storia la stessa dignità della lettura della tua storia fatta dall'economista dal marxista dal liberale da chi ti pare perché sono sempre criteri di lettura gli atti degli apostoli narrano la storia e la leggono sotto profilo teologico e quindi cerca l'autore di capire il significato di queste cose vi faccio un piccolo esempio a un certo momento luca dirà nei primi capitoli lo troveremo che erode agrippa ha perseguitato la chiesa ma non dice che è una oscenità che è una cosa ingiusta che queste cose non bisogna farle che deve esistere la libertà di espressione di fede dice niente luca fa l'annotazione e poi nella narrazione ti mostra come questa persecuzione sia stata providenza perché da questa persecuzione la chiesa mette in opera ciò che cristo ha detto cristo aveva detto andate fate mie discepoli tutte le genti all'inizio della vita della chiesa non c'è mica questa preoccupazione gli apostoli sembrano certi parroci nostri che aspettano la gente in canonica loro hanno la chiesa di gerusalemme e aspettano che lì accada tutto capita la persecuzione la chiesa ellenistico cristiana di gerusalemme è costretta a scappare via per non rimetterci la ghirba ed è proprio in questa diaspora cristiana dalla città di gerusalemme che inizia la predicazione del vangelo in mezzo ai pagani perché costoro vanno a rafforzare la comunità di antiochia lì barnaba e paolo sono profeti e partono per la prima volta in modo organizzato a predicare il vangelo a chi ebreo non è e paolo dimostra che se non ci fosse stata quella persecuzione non avremmo avuto questo sviluppo è una lettura teologica quello che noi possiamo fare della nostra vita molto spesso ci accorgiamo che ciò che abbiamo vissuto come rifiuto come sofferenza come cosa negativa poi si è dimostrata come ricaduta nella nostra vita una cosa essenziale una cosa centrale importante che ha creato una svolta nella nostra esistenza e allora mentre tu vivi quell'episodio chiedi a Dio che te ne liberi quando l'hai vissuto e ti volti indietro ringrazia Dio perché è esistito quell'episodio ecco Luca ti abitua ad avere questo tipo di rispetto di te di brontolare mentre capitano le cose non piacevoli ed è giusto perché questo è ciò che noi percepiamo dentro di noi ma in quella occasione sotto voce in punta di piedi Luca ti dice non dare un giudizio definitivo aspetta lascia che il tempo passi poi vedi le ricadute e ti accorgi che ciò che hai vissuto è provvidenza negli atti degli apostoli noi impareremo questa mentalità ci accorgeremo anche di un altro grande tema io lì vi ho messo alcuni testi siccome erano in grassetto avevo intenzione di leggerveli ma il tempo è quello che è li potete leggere per conto vostro grande protagonista della storia della chiesa è la parola non è l'organizzazione non è la struttura non è che so io l'autorità ma è sempre la parola se voi leggete questi brani è impressionante Luca non dice i missionari hanno predicato dappertutto no, dice la parola si estendeva e fa riflettere un'affermazione del genere io non so se voi avete mai avuto occasione di scambiare con serenità il che non è facile due parole con i testimoni di Geova è difficile parlare con serenità ma loro dicono che hanno milioni di ore di predicazione eppure se voi guardate le statistiche in Italia sono calati di molto rispetto agli anni cinquanta allora non basta predicare facciamo un parallelo poco simpatico anche noi preti predichiamo tutte le domeniche eppure ci sono tante pubblicazioni che dicono che le prediche sono sempre quelle sono noiose alle volte quando il prete apre bocca sappiamo già dove va a finire cioè non ha impatto non incrocia questa parola alla vita delle persone luca probabilmente ha fatto queste riflessioni ha detto qui c'è un mistero non è la predicazione e basta sufficiente a far nascere la fede ma luca ha davanti la parabola del buon seminatore è il seme che fa nascere la fede può darsi che tu semini male può darsi che tu semini sul terreno sbagliato chi lo sa ma sta di fatto che la proporzione tra la fatica del predicare e i risultati non collima non è proporzionata mentre invece tu ti accorgi che quando delle persone accettano la parola di Dio e la fanno diventare cibo proprio lì improvvisamente la persona cambia fa determinate scelte impara a ragionare con pazienza ovviamente in maniera diversa e allora ti accorgi che non è importante la predicazione in sé ma diventa importante quando questa predicazione veicola la vera parola di Dio non storpiata da interpretazioni poco corrette io non posso leggere in principio era il verbo il verbo era presso Dio e il verbo era divino questo è falso perché il testo greco dice il verbo era feos era Dio e tu testimone di Geova non ti puoi permettere di falsificare la parola quando voi trovate un prete che predica la parola di Dio la gente anche lo ascolta qualche volta ma quando fa il moralista chi lo ascolta? questo bisogna farlo questo non bisogna farlo un paio di orecchi che non vi dico se scopriremo il mondo dei preti pescovi e presbiteri e diaconi è chiamato al ministero della parola e questo sia e Luca dice la parola si espandeva la parola convertiva la parola così la parola colà perché è quella che compie i miracoli non il veicolo che la porta a livello culturale il libro degli Atti ci è vicino molto più che non il Vangelo di Matteo di Marco e di Giovanni ma il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli è vicino alla nostra sensibilità perché noi siamo figli che ci piaccia o no di Roma e della Grecia e abbiamo ereditato dal latte materno un modo di sentire le cose che è occidentale sarà per la lingua sarà per i contatti culturali che abbiamo io non sono un sociologo e non mi interessa esserlo ma il dato di fatto è che noi leggiamo molto più volentieri Matteo scusate Luca Atti che non Matteo Marco e Giovanni perché? c'è niente da fare c'è una sintonia Luca è di cultura greca anche se sembra sia nato da Antiochia e scrive alla maniera greca e scrive alla maniera greca ragiona alla maniera greca che è molto vicina alla nostra qui però c'è un piccolo pericolo che lui grecizzi ciò che invece alle origini era semitico e qualche volta lo fa per cui noi dobbiamo essere estremamente rispettosi delle fonti e quindi alle volte noi dovremmo leggere Luca ma accanto a lui dovremmo leggere anche qualche testo che è semitico quindi Matteo quindi Giovanni e allora comprendiamo come Luca abbia grecizzato alcuni concetti che sono di difficile grecizzazione lui ha tentato una traduzione greca ma a noi interessa pescare Luca con questo criterio greco mandare anche le fonti e capire qual era invece il parametro semitico penultimo concetto lo Spirito Santo è colui che guida la storia della Chiesa anche lì vi avevo messo alcuni brani da leggersi ma non importa li potete leggere per conto vostro vi accorgete linea 104 che Pietro al capitolo quarto quando discute con i sinedriti è ispirato dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo che lo spinge a parlare in questo modo come lo Spirito Santo ha spinto Davide mille anni prima a scrivere in un altro modo dunque quando l'uomo si mette a servizio dell'onestà più profonda della verità più profonda che è in lui sappia che si mette a servizio dello Spirito e lo Spirito che parla attraverso di lui questo è un dato molto importante ma deve essere pulito mentalmente non deve cercare il suo interesse ma deve cercare ciò che è più vero certamente lo Spirito è un dono dato ai battezzati e al capitolo ottavo voi avete la prova provata che la cresima esisteva fin dall'inizio i missionari del gruppo ellenistico cristiano di Gerusalemme tanto per capirci quello guidato dai sette parte va verso no e andando verso no battezza ma i sette non sono vescovi e allora Gerusalemme spedisce Pietro e Giovanni a imporre le mani per donare lo Spirito Santo tradotto in termini catechistici moderni c'è questa prima ondata che battezza e poi ci sono gli apostoli che cresimano le grandi decisioni nella Chiesa sono ispirate dallo Spirito però come vi dicevo prima sono coinvolti sia l'autorità della Chiesa sia la comunità oggi non sempre la comunità ha lo stesso ruolo che nella storia degli atti ultimo concetto e chiudiamo la Chiesa viene concepita non come un organismo che è una forza più o meno grande nella società ma viene concepita come corpo di Cristo nella storia Cristo continua ad esistere nella storia e operare nella storia per mezzo di ciascun membro della comunità per questo motivo quando c'è l'incontro tra Paolo e Gesù sulla via di Damasco Gesù non va tanto per il sottile e le dice Paolo, anzi Saulo perché i perseguiti ma Paolo non ha mai perseguitato Gesù Cristo ha perseguitato solo e unicamente le comunità cristiane ma Gesù taglia il corto e le dice tu, facendo questo, perseguiti me Cristo si identifica dunque con la comunità cristiana ecco questi concetti sono piccoli, apparentemente facili ma ci saranno molto utili per la lettura successiva grazie per oggi alla prossima volta Elisabetta grazie a tutti grazie a tutti